ciao ragazzi come state spero tutto bene allora la stagione alle porte anzi ho visto che quest'anno i volatili sono già pronti e per questo ho pensato bene di farvi questo video per farvi vedere un piccolo esempio del materiale che potete dare per fare i niti ok ragazzi salut ragazzi ho visto che sono già pronti l'oiseo sono già pronti l'anno passato quindi ho pensato a vedere un piccolo esempio del materiale per fare i niti per l'oiseo che potete dare assalamualaikum fratelli e spero che voi potete fare una cosa oggi vi vorrei un esempio un piccolo esempio che potete dare per fare le tueure per fare il okey hey hi guys how are you I hope everything is going fine so today I'm gonna show you a small example of the material that you can give to your birth to make the nest ok allora ragazzi iniziamo proprio con il classico l'old school lo chiamo io questo è stato usato per generazione ragazzi dai nostri nonni e devo dire la verità che i volati lo gradiscono molto anche e vola lega io voglio montare il primo esempio io ho chiamo questo il primo esempio perché è stato usato da nostro grandparente questa è una tecnica molto vecchia e voglio dire che l'oiseo il aime bene anche questo quindi questo è il primo esempio qui vediamo il primo esempio questo è molto più grande perché questa è stata usata che avevo usato questo quindi questo è il primo esempio ragazzi io ho chiamato l'old school perché è una tecnica molto vecchia e per essere sincero i ragazzi apprezzano molto questo materiale ok ragazzi allora adesso vogliamo vedere il secondo esempio il cotone o la iota come potete chiamare in pratica questo si dà proprio alla fine ragazzi ok questo è proprio per fare il contorno finale del nito e voilà lega maintenant il deuxième esempio sai il fudonè o il dernier ok questo serve per fare il contorno del nito o il dernier quindi il fudonè è giusto alla fine ok ovunano è un esempio questo è il secondo esempio questo è il contorno questo è il contorno alle tue perché ora ragazzi questo è il secondo esempio sono dei fili infiniti come ben vedete qua anche questo materiale molto gradito dei volatili il quarto esempio sono dei peli di animali e devo dire che quest'ultimo anche lui molto gradito in pratica un miscoglio di cotone fili peli un po di tutto e volare le terrasi il primo esempio sono dei fili come vedete come vedete come questo e poi vi mostrerò sono dei peli di animali con il cotone con un po di tutto c'è anche dei fili e le quindi il ambiente sicuro qui siamo arrivati a un esempio come vedete come vedete questo come vedete questo come vedete le miele il il pezzo e vorrei riconosci anche questo è un esempio questo si mangia molto in le miele e sono dei fili e sono dei fili our next example as you can see but I'm gonna show you something very nice and the birds really like this material actually there's a lot of things together hair cotton and as I said the birds like a lot this material allora adesso vi do un piccolo bonus ragazzi, un piccolo segreto in pratica io do anche ragazzi scusate ma non mi viene proprio il nome in italiano in questo momento ma si usa per fare il presepe e si trova ovunque non mi ricordo il nome e vi garantisco che è ottima ragazzi perché in pratica il cartellino in natura usa proprio questo materiale questo è un mio piccolo segreto che ho voluto condividere con voi che ho voluto 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 neofita con questa nuova stagione ovviamente vi auguro tantissima fortuna perché ci vuole anche quella con i cartellini ragazzi ovviamente ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti mi fa sempre piacere leggere i vostri commenti anche se delle volte non ho il tempo per rispondendo per rispondere a tutti non dimenticatevi anche di condividere il video con i vostri amici allevatori in modo da poter aiutare altre persone e ovviamente non dimenticatevi di iscrivervi ragazzi perché ci saranno molti altri video anche loro molto utili già li sto preparando però ogni volta metto uno alla volta ok ragazzi io vi ringrazio per la vostra attenzione noi ci vediamo alla prossima ciao belli e voilà les gars noi siamo arrivati a la fin j'espère che questa video va vi aiutare e io spero anche che voi avvallate avvallare becquo di chance questa saison perché honnattamente le gars con le chardonnay il faut anche un po' di chance io voglio fare il mio per vi aiutare ovviamente io devo mettere le video ogni volta che che ho ho il tempo perché che prende veramente molto tempo per fare una video come questa ma ma va apprendere doucemente insieme beaucoup di nuove cose c'è per So guys, we came to the end, I hope you enjoyed the video and I hope also you learned something today And I wish you a lot of luck for this season, because with cold finches sometimes you need also some luck I will try to keep uploading this kind of videos with info and everything that I know So don't forget to subscribe and let me know in the comments below If you liked the video, it's always a pleasure to read your comments guys, okay Thank you very much for watching, see you next time, ciao belli